24. Malintenzionato Perché quando mi si avvicina a una persona che credo possa essere un malintenzionato, sono presa da un senso di ansia? Commento Perché temi un'intenzione nemica di qualcuno che possa essere esternata il più presto? L'intenzione è irradiata dalla coscienza, mentre la telepatia è irradiata dalla mente. Ecco perché si percepisce più facilmente un'intenzione che un semplice pensiero.